Ha messo a repentaglio la sua incolumità e quella degli automobilisti. A finire nei guai lunedì pomeriggio è stata una quindicenne che in sella a una bici elettrica ha imboccato l'autostrada dal casello di Cattolica percorrendo l'arteria per diversi chilometri in direzione sud. Grazie alle segnalazioni arrivate alla centrale operativa della polizia stradale sono intervenuti gli agenti di Fano che in breve tempo sono riusciti a localizzare l'imprudente ciclista. L'hanno bloccata e messa in sicurezza in una piazzola all'altezza di Gradara. La minore, priva di documenti e non in grado di comprendere la lingua italiana, è stata soccorsa e condotta al comando. La ragazzina era arrivata da pochi giorni dal Brasile per una visita al padre, residente da diverso tempo a San Giovanni in Marignano. Durante l'assenza del genitore la giovane ha approfittato della bici elettrica a disposizione per visitare le zone limitrofe alla città tanto da raggiungere e imboccare l'autostrada senza rendersi conto del grave pericolo a cui sarebbe andato incontro. Per fortuna la vicenda si è conclusa solo con un grosso spavento.